Allora, a prescindere dal fatto che io faccia questo tipo di mestiere adesso, di attività adesso, io sono convinto che nelle gare, e a prescindere anche dal fatto che abbiamo organizzato anche un trofeo monomarca con queste moto elettriche, che fra l'altro ci fa divertire molto, soprattutto i piloti, io credo che nelle corse la moto elettrica non abbia un gran futuro, o comunque non sia molto prossimo. Ti spiego perché, perché una moto elettrica ti dà gusto solo se la guidi, molto gusto, ma solo se la guidi, se la guardi è noiosa. E il fatto di non percepire, mancando il rumore, di non percepire da fuori l'emozione della potenza, di quanta potenza sta esprimendo in quel momento quella moto, è una mancanza di adrenalina.